sta per iniziare l'estate i carabinieri della compagnia di castellamare di stabia hanno già avviato le operazioni a largo raggio nella giamaica italiana la zona è sempre la stessa l'area dei monti lattari una zona ormai nota grazie alle caratteristiche geologiche per una predisposizione alla coltivazione della marijuana non solo droga su quelle montagne che sono diventate anche luoghi già l'anno scorso i carabinieri hanno effettuato diversi sequestri arresti a conferma del dato dove poter nascondersi e nascondere armi e munizioni anche quest'anno i carabinieri del posto potranno contare sul prezioso contributo dei colleghi dello squadrone li portato cacciatori calabria militari addestrati per operare in determinate condizioni impervie abituate a perlustrare i critici sentieri della spromonte durante primo servizio a largo raggio di rastrellamento denominato continuum bellum a fini rimanette un incensurato ventunenne ritenuto nell'orbita della criminalità organizzata locale nel comune di gragnano i carabinieri hanno perquisito un terreno agricolo in uso al ventunenne e lì hanno rinvenuto e sequestrato due bidoni in plastica interrati con all'interno una pistola smith and wesson calibro 38 special con matricola brasa 36 proiettili dello stesso calibro sette cartucce calibro 20 quattro scatole contenenti complessivamente 550 grammi di polvere da sparo e attrezzatura per preparare e confezionare cartucce completa di fermaglie e cartoncini la pistola sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti l'arrestato è stato trasferito nel carcere ciporgio reale a disposizione dell'autorità giudiziaria denunciati poi un 65 anni e un 49 anni di Piemonte già note alle forze dell'ordine i carabinieri hanno controllato l'abitazione dei due nel verde dei monti lattari e hanno accertato la presenza di una tettoglia di 45 metri quadrati e di due rampe di scale in acciaio realizzate senza utilizzazione in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici per lo stesso motivo è stata denunciata anche una cinquantenne di Piemonte incensurata la donna stava realizzando un vano interrato in cemento armato di circa 60 metri quadrati il vano dalle sembianze di un bunker era nascosto da una botola in lamiera nella stessa zona in un'area demaniale i militari hanno rinvenuto e sequestrato un bidone nascosto all'interno di una grotta ricavata da una parete rocciosa nel fusto c'erano 30 cartucce calibro 36 e 39 ordini esplosivi per un peso complessivo di due chili e mezzo di polvere da sparo iscrivati al nostro canale